Come ottimizzare la crescita muscolare in bulk? Quali sono i fattori più importanti a livello alimentare in questo video? Quanto devo mangiare nel mio pre-workout? Come gestire la pre-workout nutrition? Se devo mangiare carboidrati in alcuni giorni on, off, ciclizzazioni varie? Insomma, come gestire il tutto per crescere il più possibile? In questo video vedremo quelle che sono le migliori pratiche, gli errori più comuni e nello specifico capiremo perché il 90% delle persone si cresce perché cresci, mangi, spingi, cresci ma non ottimizza quello che potrebbe portarsi a casa. E divideremo questo video in tre differenti parti. Vedremo innanzitutto l'aspetto calorico, capendo come modulare le calorie nel lungo periodo. Vedremo la ripartizione di queste calorie nei differenti macronutrienti, quindi come dovrebbero essere ripartite in proteine, grassi e carboidrati. E in ultimo vedremo l'aspetto del timing in generale, cioè come ripartire poi questi carboidrati, grassi e proteine nel corso della nostra giornata, nel corso della nostra settimana, eccetera. Prima di iniziare, lo so che è fastidioso quando lo faccio, me ne rendo conto, però il like e la sottoscrizione, dai, ce la siamo meritata. Stiamo facendo tantissimi contenuti e il tuo supporto, che è veramente soltanto un click, per noi è fondamentale e ci spinge a continuare a farne di più. Quindi se ti piacciono tutti questi video e sto culo che ci facciamo perché c'è un tanto culo dietro, Cristiano lo sa perché sta montando il video, lo sa quanto culo c'è dietro, allora supportaci nel migliore dei modi. Andiamo al video. Partiamo con l'alimentazione. Per costruire massa muscolare serve un surplus energetico, ossia bruciamo X calorie e dobbiamo mangiarne più. Dobbiamo mangiare più di quello che bruciamo, serve questo surplus. E fin qui ci siamo, ma di quanto deve essere? La domanda non è stupida perché se da una parte un surplus minimo, veramente veramente centilinato, alla fine non ci permetterà di mettere massa muscolare perché ci saranno dei sistemi di adattamento del nostro corpo, o comunque non sarà sufficiente a dare un concreto boost alla performance, dall'altro un surplus esagerato ci porterà a mettere grasso molto velocemente e nel momento in cui i livelli di grasso sono troppo alti, in realtà gli adattamenti muscolari diminuiscono, cioè avremo una vera e propria resistenza anabolica. Se ti interessa un video sulla resistenza anabolica scrivilo qua sotto nei commenti. Dunque il surplus dovrebbe essere sempre all'interno di un range che va dal 10 al 20% delle calorie in più. Cioè se il mio metabolismo è di 3000 calorie e a 3000 calorie sto in normo calorica, allora dovrei avere un surplus iniziale di 3300 calorie, quindi 300 calorie in più. Ma aspetta un attimo, voluto, fermo, non mi torna una cosa, ma tu dici sempre che per crescere bisogna mangiare tanto, fai vedere insomma queste alimentazioni spinte di carboidrati, calorie altissime, sempre che poi alla fine il collo di bottiglia è il force feeding, quindi la capacità della tata a mangiare, in realtà sto surplus è minimo come mai. Ecco, per capirlo dobbiamo introdurre il concetto di adaptive termogenesis, ossia termogenesi adattativa per gli anglofobi. Facciamo un esempio, sto in una mia normo calorica, ok? Quindi mangio 3000 calorie, ne spendo 3000, il peso non si schioda, sto perfettamente in bilancio energetico. Ora da qua dico, ok, mangio 100 grammi di riso in più al giorno, quindi più o meno 350 calorie, tutti i giorni. Ok, quindi attuo un surplus per il punto del 10%. Inizialmente vedrò che il peso della bilancia si muove, quindi inizierò a crescere, a prendere masse, a prendere peso, ma non è che questo funzionerà all'infinito, cioè a un certo punto stallerò. Non è che da 100 kg arrivo a 200, 300, 400, perché ogni giorno mangio quei 100 grammi di riso in più. Perché questo? Ecco, questa è la termogenesis adattativa, cioè il nostro corpo è un super fan dell'omeostasi, del mantenimento di un equilibrio, quindi quando riceve più calorie attua tutta una serie di meccanismi a livello di regolazioni enzimatiche, ormonali, di comportamento anche nostro, per bruciare effettivamente quelle calorie in più. E sostanzialmente se da 3.000 sono passato a mangiare 3.300, nel giro di un po' di tempo il mio consumo energetico sarà effettivamente di 3.300. E questo è il motivo per cui si arriva a così tante calorie, perché io per mantenere sempre un surplus minimo del 10-20%, in realtà ogni tot dovrò continuare ad alzare le calorie. e qui il metabolismo si adatta, alzano ancora un po' di più, il metabolismo si adatta, alzano ancora un po' di più, insomma, hai capito l'antifona. E questo ci porta a scontrarci con il limite principale che abbiamo, ossia il fatto che in off-season il problema che incontriamo è che a un certo punto a livello di capacità pancreatica, di gestire carboidrati, di capacità gastrointestinale o di capacità vera e propria dell'atleta di mangiare, incontreremo un limite. Per questo è fondamentale inserire dei periodi di resensibilizzazione, cioè scordiamoci il concetto di salire all'infinito di calorie e mangiare tanto per periodi di tempo lunghi, dobbiamo attuarlo nel breve e medio periodo, ma serviranno dei momenti in cui l'atleta si resensibilizza a livello di sensibilità insulinica, a livello di capacità gastrointestinale, a livello anche di compliance con l'alimentazione, perché ragazzi, la dieta fa paura, mangiare poco, avere fame fa paura, ma vi assicuro che la cosa peggiore in assoluto è il force feeding. Testimianza di qualsiasi atleta, il force feeding genera dei sentimenti di ansia nei confronti dell'alimentazione che è inimmaginabile, ve lo posso assicurare, non è enjoyable. Ora, come possiamo attuare questi periodi di resensibilizzazione, come agiscono nel dettaglio e perché nel dettaglio sono necessari, cioè che cosa succede? Lo dedicheremo a un altro video se ti interessa, come sempre me lo fai sapere qua sotto nei commenti, però generalmente quello che posso dirti è che abbiamo due principali strategie. La prima strategia è quella del mini cut, che abbiamo parlato spesso, ossia faccio una fase di blasting alimentare in cui salgo di calorie per un 18-20 settimane circa e arrivato là faccio una fase per l'appunto di mini cut, di resensibilizzazione più o meno della metà del tempo, può essere un 8-10 settimane. Non serve proprio a dimagrire, il termine mini cut è un po' infelice, serve appunto a resensibilizzare e poi continuare. Secondo approccio è un approccio ad onde, più o meno la stessa cosa però in tempistiche un po' più brevi. Cioè una fase di blasting calorico che porta avanti per 6-8 settimane, da là una fase di scarico di delode per 1-2 settimane per resensibilizzare, per poi effettuare un app calorico, quindi alzare le calorie rispetto alle 6-8 settimane di blasting precedenti e continuare così. Cioè prima di ogni app calorico in realtà resensibilizzo il corpo, mi assicuro che sia sensibile e recettivo a quello che arriverà. È una ciclizzazione cosiddetta ad onde. Questi sono i due principali modelli, ma di nuovo se ti interessa un video scrivilo qua sotto che ce ne dedicheremo uno specifico per te. Non ti che me lo chiedi. Poi per dare dei numeri, perché poi alla fine arriviamo sempre ai numeri, quante calorie generalmente vediamo su atleti bodybuilding? Ecco, diciamo che si parte in off-season su un 35-40 calorie per chilo e si arriva tranquillamente a 60-70 calorie per chilo. Ma dipende molto dal soggetto, dall'atleta, da quello che fa, se fa cardio, dovrebbe far cardio, mi raccomando, però dipende da tantissimi fattori. Però per dare delle cifre indicative, un atleta di 80 kg sta tra 3.000 calorie e 5.000 calorie. Una cosa del genere. Ora, passiamo alla seconda parte. Queste calorie, come le ripartisco tra i diversi nutrienti? Cioè, ok, sono 3.000 calorie, 4.000, ma quante proteine, quanti carboidrati e quanti grassi? Il discorso delle proteine, e qua c'è un video, quindi vattelo a rivedere perché ho approfondito. Sostanzialmente il quantitativo calorico si attesta tra 1,4 e 2 grammi per chilo di peso corporeo di proteine totali. Un atleta di 80 kg sta sui 160 grammi di proteine, come per limite, di nuovo, totali, non soltanto quelle nobili, ma va la pena dare un'ulteriore spinta alla sintesi proteica, utilizzando però non tanto le proteine complete, perché avremo bisogno di tante più proteine, ma sfruttando gli amminoacidi essenziali e solo gli essenziali, che si contraddistinguono per avere una spinta proteica a parità di amminoacidi totali, ecco molto più forte, cioè con gli amminoacidi essenziali sono più forti nello stimolare la sintesi proteica. Noi sappiamo che l'ipertrofia è data da un bilancio tra sintesi proteica e catabolismo proteico-muscolare, più riesco a spingere la sintesi proteica-muscolare, meglio è il catabolismo, più di tanto non posso giocarci per la verità. Quindi 1,4-2 grammi per chilo di proteine e aggiungiamo on top nel corso della giornata uno 0,3-0,4 grammi per chilo di amminoacidi essenziali, dove li inserisco nei pasti in cui le proteine tendono ad essere un po' più basse. Passando a parlare invece dei grassi, i grassi hanno diverse funzioni nel nostro organismo, anzitutto delle funzioni strutturali e regolatorie, strutturali di membrana, di struttura ormonale, regolatorie, si pensa semplicemente al boost che possono dare al sistema immunitario, boost proinfiammatorio, antinfiammatorio, eccetera eccetera. Piccola parentesi, queste funzioni regolatorie dipendono molto dalla tipologia di acido grasso, quindi la tipologia, la fonte di grassi che mangiamo è veramente importante. Non buttiamoci sul mangiare un eccesso di acidi grassi saturi che logicamente possono essere presenti però con un limite, ma tendiamo a scegliere delle fonti positive come fonti ricche di omega 3, omega 9, olio extravergine d'oliva, avocado, frutta secca, eccetera eccetera. Anzi guarda, ti faccio una lista qua, proprio in ordine delle fonti migliori a cui devi dare priorità. In primis l'olio extravergine d'oliva e l'avocado, se ti piace. Continuano molte ricette con l'avocado, è buono te lo giuro. Le uova, che in realtà sono ricche di monoinsaturi, cioè la frazione principale di grassi è di monoinsaturi, non di saturi come si crede. Hanno anche la lecitina, più un complesso di vitamine e minerali, veramente incredibile. Il pesce grasso, selvaggio però, non da allevamento, selvaggio mi raccomando. La frutta secca, altra ottima fonte, che però tende ad essere molto ricca di omega 6, quindi per bilanciare il rapporto tra omega 3 e omega 6, meglio non esagerare. Dalla carne rossa, possibilmente grass-fed, sia per un discorso di contenuto di omega 3, profilo lipidico, sia anche per un discorso di sostenibilità ambientale e di benessere animale. Per i vegani, che ogni volta che dico questa cosa si arrabbiano perché non c'è benessere se c'è un omicidio, eccetera. Ragazzi, fatela andare bene. Cioè, mi sembra, no? Non passo la vostra direzione. No, è detto questo. In ultima battuta, quelli che sono i latticini, i formaggi, che hanno un profilo amminocidico che non è ottimale, e poi, ovviamente, gli oli vegetali, come l'olio di cocco, eccetera. Ecco, magari non esageriamo su quelle fonti. Non vanno eliminate del tutto, viste come la peste nera, sia chiaro, ma non dobbiamo esagerare. Quindi poi, alla fine, quanti grassi dobbiamo mangiare? Ecco, ti do due indicazioni. Generalmente, per assolvere le funzioni regolatorie e strutturali, parliamo di uno 0,7 un grammo per chilo di peso corporeo, che è un po' il limite inferiore a cui vogliamo comunque stare. Però i grassi condividono anche una funzione energetica con i carboidrati, e quando parliamo di funzione energetica, logicamente dobbiamo smettere di pensare a grammi per chilo totali, ma ragionare sulla mole calorica. Cioè, una persona che consuma 6.000 calorie e una che consuma 2.000 calorie avranno delle richieste di grassi, da un punto di vista energetico, differenti. Quindi qua apriamo un capitolo che è quello della Cigilazio, quindi il rapporto tra carboidrati e grassi, che si ottiene dividendo la quota ai grammi settimanali di carboidrati, quindi totali quanti grammi a settimana mangio di carboidrati, per quanti grammi di grassi a settimana mangio, faccio la divisione, e ottengo un numero. Questo numero idealmente dovrebbe essere sempre compreso tra 5 e 10, perché? Perché così mi assicuro di mantenere una buona flessibilità metabolica. Ora, se ti interessa un video sulla Cigilazio, lo scrivi qua sotto, perché ovviamente vanno fatte tantissime, tantissime previsazioni. E arriviamo infine ai carboidrati. I carboidrati sono il substrato principale per il bodybuilder, perché facciamo uno sport anaerobico. Uno sport in cui il sistema energetico che utilizziamo è in assenza di ossigeno, i carboidrati sono il substrato principale, in questo caso. Quindi hanno un ruolo importante di boost, di performance, ma anche quello che facciamo nell'altro pratico da bodybuilder è andare a svuotare, ripristinare quelle che sono le scorte di glicogeno muscolare del muscolo. Quindi per avere quell'aspetto pieno, oltre a un discorso di performance, i carboidrati sono fondamentali, così come la sensibilità del tessuto all'azione dei carboidrati, la capacità di intake, di storage di carboidrati, di glicogeno muscolare. Quindi sostanzialmente saranno il nostro protagonista. Quanti mangiarne? Ecco, dipende logicamente dalle calorie. Come abbiamo detto, la mole caroica dovrebbe salire nel tempo e questo aumento dovrebbe essere un aumento principalmente guidato dai carboidrati, considerando però anche quella che è la CG ratio, quindi i grassi. Generalmente possiamo dire che un atleta dovrebbe partire sui 4-5 grammi per chilo di peso corporeo di carboidrati, in off-season un punto di partenza, ma visto che abbiamo detto che si sale gradualmente e c'è la necessità di salire, il picco di una fase di off-season normalmente si attesta in un range che va dai 7 ai 10 grammi per chilo, cosa vuol dire? Vuol dire un atleta di 100 kg, facciamo il conto facile, sconcedetemelo, può arrivare in picco a 700, 800, 900, anche 1000 grammi di carboidrati come media giornaliera. Ma attenzione, innanzitutto è un picco, quindi posso tenerlo per 6 settimane all'interno del mio anno, no? Come apice massimo, non è che devo stare così tutto l'anno, l'abbiamo già detto. In secondo luogo è un range, cioè ci sarà quell'atleta che sta a un chilo di carbo al giorno, volendo anche di più, per carità è un range indicativo, ma ci saranno anche atleti che magari raggiungono soltanto 6-700 grammi come picco massimo. Parlando di carbo, quali sono le fonti che dovrei tenere? Ecco, là sui carboidrati apriamo un capitolo immenso, bellissimo, perché la rosa di fonti glucidiche è la rosa di fonti più ampia da cui possiamo trarre vantaggio. E ricordate che l'alimentazione deve avere sempre un'ottima varietà, quindi teniamo come regola generare sempre un 100-150 grammi di carboidrati integrali al giorno, per assicurarci un ottimo intake di micronutrienti, ma anche di fibre. Quindi l'avena, il farro, l'orzo, riso integrale, pasta integrale, eccetera. Pane integrale, bellissima fonte, pan integrale vero, no? Poi, ovviamente, parlando di ragazzoni o ragazzone che mangiano tanti carboidrati, la regola del preferire sempre l'integrale non può aver senso, perché andiamo in blocco intestinale per l'eccesso di fibre. Quindi, il resto dei nostri carboidrati dovrebbe essere fatto da fonti facili di gestione, in particolare fonti raffinate. Poi, otteniamo anche nella giornata un 200 grammi di frutta almeno al giorno, che è una fonte glucidica straordinaria, ricca e densissima a livello nutrizionale, di microelementi, ma soprattutto di fitocomposti protettivi. Ma questo ci porta, attenzione, all'ultima parte che è quella del timing, perché è importante da capire. Cioè, abbiamo capito quante calorie, abbiamo capito quali macronutrienti, ma poi, come li ripartiscono nella mia giornata, come li ripartiscono nella mia settimana? Allora, iniziamo con le proteine. Le proteine dovrebbero essere ripartite in maniera bene o male, nel percorso della giornata. Quello che sappiamo, allo stato dell'arte della letteratura, è che per massimizzare la sintesi proteica muscolare, vogliamo avere un intake proteico che va dai 20-40 grammi di proteine totali o comunque 10 grammi di amminoacidi essenziali almeno ogni 3-5 ore. Quindi, il consiglio è di prendere la mia quota proteica totale giornaliera. Inserire subito alcuni pasti un po' più ricchi di proteine, quindi arrivo tranquillamente ai 40-45 grammi. Poi, nel mezzo di questi pasti, compreso anche l'intra-workout, inserisco degli intake di 10 grammi di amminoacidi essenziali e cerco di avere quindi un quadro di 4-5-6 pasti giornalieri con un costante intake amminocidico. Questo sia nei giorni di allenamento che nei giorni di non allenamento, quindi vale come regola per tutti i giorni. Passiamo ai grassi. Ecco, i grassi anche qua dovrebbero essere gestiti in maniera abbastanza uniforme, però il mio consiglio è questo, nei pasti prima e soprattutto nei due pasti dopo l'allenamento, mettiamone un po' di meno. Perché questo? Perché come vedremo vogliamo dare quanto più spazio possibile ai carboidrati e questo mi porterà automaticamente a una ciclizzazione. Ossia, nei giorni in cui mi alleno avendo meno pasti lipidici avrò anche meno grassi totali nella giornata e nei giorni in cui non mi alleno avrò più grassi nella giornata perché li vado a distribuire equamente nel corso del mio giorno. E in ultimo, i carboidrati. Il timing dei carboidrati che è quello più importante in assoluto e la regola generale è quella di concentrare il grosso i nostri carboidrati nella peri-workout nutrition quindi a ridosso del nostro allenamento. Qua possiamo dare mille cifre, mille ragionamenti. In realtà possiamo semplificare in questo modo. Il 25% dei carboidrati dovremmo inserirli nella fasce orarie prima, nelle 4 ore prima del nostro allenamento circa. Un altro 40%, quindi tanti carboidrati, lo vogliamo inserire nelle 3-5 ore dopo il nostro allenamento. Perché questo? Perché con l'allenamento abbiamo una traslocazione in membrana dei GLUT4 i recettori del glucosio e questo avviene a livello di tessuto muscolare specifico quindi non a livello di tessuto adiposo. Sostanzialmente l'allenamento ha un effetto cosiddetto insulino mimetico cioè un effetto che simula l'azione di insulina quindi un'azione che spinge i carboidrati all'interno del tessuto ma attenzione questo effetto insulino mimetico è specifico del miocita del tessuto muscolare. Per ricapitolare avrò una via diretta preferenziale dei carboidrati proprio nel muscolo per cui vale la pena investire tanti carboidrati proprio in questa fascia oraria dopo il mio allenamento quella che normalmente era definita la finestra anabolica beh esiste questa finestra anabolica effettivamente non è un mito altro piccolo dettaglio di cui ho parlato spesso è che la DNL la denobolipogenesis quindi la creazione di tessuto adiposo a partire da altri substrati di carboidrati in questo caso ecco dopo l'allenamento è parzialmente inibita ancora più disincentivata cosa vuol dire che non solo i carboidrati hanno questa via preferenziale per il tessuto muscolare ma in caso in cui io ne mangi in eccesso ecco è molto improbabile che questo eccesso di carboidrati poi si vada a tramutare in grasso è molto più verosimile che vengano semplicemente bruciati dispersi proprio in calore per cui è uno scenario ideale in cui mi conviene sfruttare una forte botta glucidica abbiamo visto 25% nelle ore prima dell'allenamento un 40% nelle ore dopo l'allenamento un 10% nel mio intra workout quindi una bevanda con ciclo di strina altamente ramificata quindi un carboidrato di facile digestione e infine il restante 25% nel resto della giornata questo cosa ci porterà a fare ovviamente come il discorso dei grassi ci porterà ad avere molti più carboidrati nei giorni di allenamento e meno carboidrati nei giorni di riposo ma visto che l'abbiamo toccato come discorso questo qua della cycling fammi sapere se ti interessa un video proprio sulla carb cycling quindi la divisione di carboidrati in giorni on off o nel corso della settimana perché ci sono anche delle forme di cycling carine che prevedono giorni bassi giorni medi giorni alti fammi sapere se ti può interessare come argomento che ci dedichiamo ogni video che faccio ti apro questi specchietti e voglio vedere realmente quali vi interessano di più mettete like anche ai commenti che sostengono i video che vi interessano di più così diamo anche una priorità ok perfetto facciamo un cappello finale per riassumere quello che abbiamo visto mole calorica che dovrebbe partire da 35-40 calorie per chilo di peso corporeo graduale aumento ogni volta del 10-20% con dei periodi di resensibilizzazione che possiamo fare con dei mini cut o una ciclizzazione ad onde ripartizione dei nutrienti un grammo e mezzo 2 grammi per chilo di peso corporeo di proteine con un'aggiunta di 0,3-0,4 grammi per chilo grassi uno 0,7 un grammo per chilo circa considerando però quella che è l'acigirazio quindi il rapporto con i carboidrati i carboidrati partiamo da un 4-5 grammi per chilo fino a picchi che possono arrivare a 7-10 grammi per chilo livello di timing proteine distribuite equamente in tutte le giornate grassi un po' meno nelle ore successive all'allenamento dove vogliamo stare un po' più liberi a livello gastrointestinale di più nei giorni off di meno nei giorni on carboidrati 25% nelle ore prima dell'allenamento 40% dopo l'allenamento 10% intra workout un altro 25% nel resto della giornata ovviamente meno carboidrati nei giorni off più carboidrati nei giorni on questo è lo specchietto ragazzi anche per questo video l'abbiamo fatto spero di aver lasciato degli spunti interessanti e noi ci vediamo nel prossimo ma ricordati di seguirci su tutte le nostre piattaforme perché se siamo super super attivi trovi tutto qua sotto il link in descrizione ci vediamo al prossimo video